Etruria è sempre stata una banca sul filo del rasoio, lo ha detto l'ispettore di Banca Italia Vincenzo Cantarella, il primo teste che ha aperto l'udienza al Tribunale, alla vela, per il processo bancarotta, per cui sono appunto a processo 25 imputati. Nelle successive ispezioni poi ha detto Cantarella la situazione è peggiorata. In quel periodo, ovvero il 2009, c'era stato quello che lui ha definito il colpo di stato, entrando anche nel merito della vicenda Rigotti e di quelle che lui ha definito appunto delle manovre interne per arrivare al siluramento del vecchio management capitanato dal Cavalier Faralli. A quel punto il management è stato sostituito, ha detto, e i nuovi dirigenti hanno cercato di far uscire la banca dalle difficoltà che aveva e dunque la banca ha cessato di crescere a ritmi elevati. In quel periodo, ha detto lo stesso Cantarella, io stilai una relazione che non era del tutto negativa. O meglio, il piano industriale e la cessazione di un ampliamento esagerato della banca erano segnali che lasciavano ben sperare. Poi ovviamente successe quello che successe negli anni che hanno poi seguito questo periodo. L'esposizione della banca sul mercato si era ridotta e insomma qualcosa si intravedeva. Io non posso... Ma che situazione ha trovato nel 2010? Non posso nascondere. Nella seconda parte di udienza l'altro ispettore, Gatti, che ha fatto invece il punto e nucleando le difficoltà invece maggiori che si ebbero nei periodi successivi sulla situazione della banca fino appunto al 2015, a fine 2015, quando avvenne il crack definitivo, o meglio nei primi mesi del 2016 avvenne il crack definitivo e la banca poi fu commissariata. Un'udienza molto importante per capire le dinamiche, soprattutto di alta finanza e le dinamiche tecniche che hanno poi portato al dissesto di Banca Etruria.